Ecco, io, poiché è la terza volta che assisto a un'esperienza di Rossi Focardi e che, a parte il fatto che in parallelo con l'amico Focardi dal 1990 lavoravamo, ma a livello di 1, 2, 3 watt di produzione, misurati esattamente con calorimetria molto accurata, ma mai abbiamo superato questo limite che l'apparato Rossi Focardi oggi ci dimostra il mondo inequivocato. E' la terza volta che vedo questo mondo inequivocabile. Ora, di interpretare, io non sono un chimico fisico e quindi non sono un, diciamo così, fisico nucleare. Mi occupo più della periferia dell'atomo e non del nucleo e a posponda chiedo qualche consiglio a qualche fisico nucleare di aiutarmi per capire delle cose. Io avrei, scusatemi la mia convinzione, avrei l'interpretazione, non io da proporlo, ma da accettarla da chiunque vega, che innanzitutto dall'ipotesi Focardi di Rossi che avviene l'agnichelazione del beta più e del beta meno. E' chiaro che questi notoriamente produrranno due fotoni gamma a 180 gradi, con geometria di 180 gradi da una parte e dall'altra. E credevo che oggi ci fosse anche questa possibilità di vedere l'agnisotropia della riduttività in termini circolari attraverso il guognometro. Ma siccome Levi mi ha detto che questo era sperimentalmente un po' difficoltoso oggi, però hanno constatato loro che hanno due buchi nel reatore in maniera antisimmetrica e vedono una differenza di radiazione gamma a livello non solo di frequenza ma di intensità sicuro. Scusatemi, io vorrei così a livello intuitivo dare una spiegazione a questo fatto della mancanza o perlomeno dell'assorbimento dei fotoni gamma che avviene nel bulk dell'articolo cristallino. Ci sono tre effetti da prendere in considerazione. Uno è l'effetto Mosbauer, che attraverso il rinculo una parte di queste radiazioni gamma potrebbero trasformarsi in energia cinetica del nucleo, del rame formato. Ma a conti fatti che li ha fatti l'amico Dufour nel blog Journal of Nuclear Physics sono l'uno per cento dell'energia gamma che viene assorbita attraverso l'inculo Mosbauer del sistema. Il secondo effetto che potrebbe essere responsabile dell'assorbimento di quei raggi gamma è l'effetto fotoelettrico interno, che non è solo un fenomeno di superficie. Il superficie perché l'abbiamo provato con i raggi ultravioletti, ma qualsiasi fotone, o meglio, per essere più sicuro, più esatto, da zero fino a 50 kV, vengono al cento per cento trasformati in energia cinetica. Cioè c'è il lavoro di estrazione degli elettroni e il resto del fotone viene trasformato in energia cinetica, che significa un'energia cinetica dell'ordine sempre dei 500 kV, una spaventosa energia cinetica degli elettroni nel reticolo cristallino, che in termini così consueti, pratici, questa energia sarebbe energia termica. Nel plasma del localizzato della banda di fermi, della banda di conducibilità, si trasforma in energia cinetica, quindi in calore. C'è da contraddire qui che fino a 50 kV funziona l'effetto fotoelettrico interno, ma da lì fino ai 500 non funziona. C'è l'altro effetto, allora, concomitante e in aiuto, che è l'effetto Compton, che trasforma, può trasformare, creare una miriade, a seconda dell'angolo, una miriade di frequenze gamma che possono anche queste trasformarsi in energia termica attraverso l'effetto fotoelettrico, cioè mobilitare gli elettroni. Quindi, voglio dire, è bene una fortuna, scusami se hai Celani, se prima ero... No, il mio carattere è un pochino così, tu mi conosci ormai da 30 anni, e quindi credo comunque che lì bisogna cercare. È chiaro che questo è un approccio così intuitivo. Io credo che la testa al toro ci sarebbe un lavoro teorico con la teoria delle perturbazioni dipendenti dal tempo, con le opportune hamiltoniane che purtroppo quelli della periferia, noi chimico-fisici li conosciamo, quelle però, l'energia potenziale del nucleo e la hamiltoniana del nucleo è un po' difficile e comunque non è pane per i nostri denti. Abbinate allora le due esperienze della periferia dell'atomo che sono i chimici, chimico-fisici e così via e i nucleari che sanno un pochino meglio un po' come è formato, se lo sanno, se lo sanno perché è una... e quindi cercare di trovare una possibile interpretazione. Cari amici, in attesa della possibile interpretazione io concludo dicendo che il Mastrovatt aveva costruito prima, il Mastrovatt, il Ferraio Mastrovatt, aveva prima costruito la macchina a vapore e poi sono venuti più tardi i Thomson, i Carnot, eccetera, e l'hanno interpretato ma molto più tardi. Quindi andiamo pure avanti con un pochino di ottimismo e lasciamo la cacchietta sotto il naso degli accademici da parte. Grazie amici. Solo la fase allotropica mi risulta, cioè non ha, diciamo, varie fasi allotropiche e dal punto di vista cristallografico è una fase unica e quindi questa spiegazione che potrebbe essere uno dei possibili canali per giustificare questa enorme emissione di energia localizzata a livello di Armstrong o di pochi Armstrong in grado appunto di portare un nuclide leggero verso un nuclide pesante superando la barriera elettrostatica in qualche modo viene meno nel senso che non c'è una fase allotropica diversa del nickel che potrebbe giustificare la differenza di energia o meglio l'energia necessaria per poter innescare il processo. Tuttavia se ci sono come mi conferma Sergio delle notevoli modificazioni strutturali evidenziabili con il microscopio elettronico immagino, non so, con qualche tipo di esame anche non eccessivamente intimo nella materia questo potrebbe essere l'indicazione che il materiale cioè che in realtà il vero combustibile non è l'idrogeno oppure il nickel come tale quanto l'energia potenziale contenuta nella matrice del nickel. Sì io ho ancora le immagini dei campioni analizzati fin dall'inizio fatte col microscopio elettronico quindi possiamo riguardarci e con quel con questo tuo punto di vista valutare questo effetto. Ho curiosità di sapere se oltre al nickel anche altri metalli possono essere utilizzati a tale scopo ebbene la risposta è sì ok grazie una domanda molto veloce sulle analisi spettroscopiche che sono state fatte ha detto che avete analizzato spettroscopicamente del materiale che era stato col SIMS che era stato sei mesi sotto catalismo sotto reazione ora volevo capire c'è scritto nell'articolo che voi avete pensato che avete visto una variazione del rapporto isotopico di due isotopi del rame si la domanda è per quanto riguarda nickel no nell'articolo ci parla anche il rame volevo sapere se anche sul nickel c'erano delle variazioni e quanto grandi erano si tutte le ricordi ma le abbiamo pubblicate su quello che c'è online non c'è scritto abbiamo notato anche nel nickel variazioni isotopiche il rame si è formato rame cioè proprio il rame si è formato e si è formato anche del rame che è di un isotopo rarissimo che normalmente non c'è non ricordavo che l'avessimo pubblicato ma evidentemente sì e invece soprattutto per quanto riguarda la differenza degli isotopi lo abbiamo riscontrato nel nickel il rame addirittura si è formato cioè il rame non c'era cioè noi siamo partiti con un reattore caricato con nickel con 5,9 e ci siamo ritrovati con dei picchi dove c'era dentro più rame dopo semi c'era dentro più rame che nickel grazie signori io vi ringrazio infinitamente noi vi ringraziamo infinitamente per avere partecipato a questa a questo test la vostra presenza la vostra gentilezza la vostra competenza sono un incoraggiamento ad andare avanti grazie infinite grazie 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 a tutti